E' stato il mandato più veloce della sanità, forse mondiale. Non è nemmeno iniziato visto che Angelo Muraglia ancora non ha nemmeno messo piede nella stanza della direzione sanitaria di Teramo in circonvallazione Ragusa che già è stato dirottato alla regione. Per Muraglia è arrivata la nomina capo dipartimento del welfare alla regione e allora l'incarico alla asla di Teramo è andato a farsi benedire. Il presidente D'Alfonso e l'assessore alla sanità Silvio Paolucci non ci hanno pensato un solo istante nella scelta da fare lasciando così in braghe di tela la asla Teramana e il manager Roberto Fagnano. Segno questo che la scelta effettuata qualche settimana fa era quella giusta ma segno anche inequivocabile che quando si tratta della sanità Teramana quella che non ha le cliniche private, che non ha le lobby da accontentare, che ha una mobilità passiva elevata per colpa di tagli sempre più pesanti, che ha visto bloccata la richiesta dell'acquisto di una nuova risonanza magnetica che deve chiudere i punti nascita e tanto altro, non ci si pensa su due volte per prendere quello che c'è da prendere e lasciare poi problemi a chi li dovrebbe risolvere. Adesso bisognerà ricominciare da capo. L'assenza di un direttore sanitario che può essere sopportata solo per un brevissimo lasso di tempo, una settimana al massimo due, è diventata ormai cronica. Fagnano si ritrova con una patata bollente tra le mani che scotta sempre di più. Potrebbe arrivare la soluzione interna, ma al manager questa non piace. E allora si naviga di nuovo a vista. Insomma, se queste sono le premesse, il 2015 per la sanità Teramana non sarà diverso dalle precedenti annate. Passano i presidenti di regione, passano i direttori generali, ma il risultato purtroppo non cambia.